Sospettato di possedere armi su un terreno a lui riconducibile, pertanto la squadra mobile di Vibo Valencia ha effettuato una perquisizione personale e locale dell'uomo e del suo podere. Gli investigatori con il supporto dell'unità cinofila della Questura si sono recati al casolare di San Gregorio di Pona, utilizzato per l'allevamento domestico di animali e per riporre attrezzi da lavoro. Dopo aver perquisito tutti i locali del sito, gli agenti hanno iniziato a controllare il terreno, che in alcuni punti presentava segni di discontinuità. Hanno quindi proceduto con escavazioni sia manualmente che con l'ausilio dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valencia. A circa un metro di profondità è stato rinvenuto un involucro metallico, simile a una canna fumaria, abilmente sigillato, al cui interno era nascosto un fucile a canne mozze e varie cartucce dello stesso calibro. L'alterazione dell'arma attraverso l'accorciamento delle canne è una pratica comunemente utilizzata per rendere l'arma più facile da nascondere o da maneggiare. Sulla base delle evidenze raccolte durante l'attività di polizia giudiziaria, condotta sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Vibo Valencia, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo la convalida dell'arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare dalle 21 alle 6 e all'obbligo di presentazione quotidiana all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio.